e allora ancora buongiorno e benvenuto a tutti ma soprattutto benvenuta a paola pallotta ciao paola come stai buongiorno marco molto bene grazie allora andiamo subito a vedere la domanda di oggi oggi pur essendo donne finanza rispondiamo a un claudio quindi rispondiamo un momo ma lo diciamo sempre insomma donne finanza è un pretesto e quindi ci possono scrivere con grandissima tranquillità anche gli amici maschi ciao masquattro ho una domanda che riguarda in realtà mia sorella e quindi in qualche modo ritorna il discorso e il discorso delle donne lei lavora in un'azienda che purtroppo rischia di chiudere o forse essere venduta lei non ha mai attivato un fondo pensione e ora un collega le ha consigliato di farlo al più presto e fa spostare il tfr nel fondo pensione è vero che si può fare anche per il pergresso o vale solo per quello che si matura da quel momento in poi mia sorella 42 anni va bene se sceglie un profilo bilanciato avete un fondo pensione che consigliate in particolare allora domanda veramente molto interessante c'è un'azienda in difficoltà un tfr si può spostare a rischio si può spostare anche all'ultimo si può spostare anche quello vecchio solo quello nuovo e soprattutto dove lo mettiamo bilanciato aggressivo mezzo aggressivo mezzo bilanciato adesso sto usando ovviamente dei nomi a caso e lascio la parola a paola perché ovviamente tu ci puoi spiegare tutto molto meglio grazie mille marco allora grazie a claudio per questa domanda dunque in realtà mi viene in mente che manca un'informazione chiave per dare una risposta concreta e completa però insomma il suggerimento te lo lanciamo lo stesso manca l'informazione del quanti sono i dipendenti dell'azienda di tua sorella perché quello che è discriminante in questo caso è appunto questo o questo dato ricordo un po la faccio un ripilogo di quello che c'è nella mia testa giustamente allora vale la pena di attivare un fondo pensione e far confuire nel fondo pensione il tfr è assolutamente sì la risposta vale assolutamente la pena non solo se l'azienda in difficoltà aggiungo io ma in tutti i casi è un'operazione importante da fare il fatto che l'azienda oggi sia in difficoltà e che un collega abbia suggerito a tua sorella claudio di pensare a quest'opzione per mettere a riparo il suo tfr è sicuramente interessante diciamo che ogni motivo è valido per in qualsiasi momento attivarsi verso un fondo pensione però il fatto di mettere in sicurezza il tfr ecco da questo punto di vista mi sento comunque di rassicurarti cioè se la tua azienda ha meno di 50 dipendenti e in effetti il tfr è rimasto in azienda allora tu puoi fare la richiesta attivando un tuo fondo pensione puoi fare la richiesta con il tuo datore di lavoro per far confluire sicuramente dal giorno in cui tu stipuli l'accordo col fondo pensione puoi far confluire nel fondo pensione il tuo tfr che maturi da quel momento in poi rispetto al tfr pergresso ci vuole un accordo con l'azienda quindi l'azienda non può essere obbligata ma può essere d'accordo a confluire anche il tfr pregresso nel fondo pensione quindi dovrai in qualche modo parlarne con loro e accordarti in questi termini quello che è discriminante il numero 50 perché 50 dipendenti perché se l'azienda è un'azienda con più di 50 dipendenti in realtà nel corso del tempo il tuo tfr l'azienda stessa l'ha già versato in un fondo di tesoreria gestito dall'inps quindi in questo caso il tfr pregresso non può essere toccato perché è già versato in un fondo a parte contemporaneamente se il tuo timore è la sicurezza del tuo tfr ecco se tu sei in un'azienda che ha più di 50 dipendenti stai tranquilla perché come appunto non puoi richiedere il trasferimento verso un altro fondo pensione ma il tuo tfr è già separato dai beni aziendali in questo fondo di tesoreria gestito dall'inps quindi in tutti i casi insomma stai tranquilla mi sento di aggiungere rispetto alla timore per le sorti appunto del tuo tfr passato in caso l'azienda appunto versi in situazioni difficili beh in questo caso esiste una tutela che è un fondo di garanzia dell'inps al quale è possibile fare richiesta e quindi attivarsi nei confronti di questo fondo di garanzia per appunto il tfr di aziende che delle quali sia stato decretato il fallimento o anche per il pagamento di degli ultimi tre stipendi nel caso in cui questi non siano stati evasi da parte dell'azienda per cui diciamo che in caso di fallimento aziendale ci sono delle tutere di stato se tu però decidi prima di tutto questo di attivarsi e di avviare la sottoscrizione del tuo fondo pensione ti ricordo in più che oltre al discorso del tfr che giustamente ti pone il problema di appunto di salvare in qualche modo c'è da dire che come sai c'è un grosso vantaggio fiscale rispetto a eventuali contributi che tu voglia fare oltre al tfr per cui fino a 5.000 circa 5.000 euro l'anno hai la possibilità di portare in deduzione fiscale i tuoi contributi nel fondo pensione e rispetto al tfr invece in questo caso i versamenti fatti a titolo di tfr non rientrano nel nel cumulo dei 5.000 euro che puoi portare in deduzione ma hai la possibilità alla fine cioè al momento dell'utilizzo del fondo pensione dell'utilizzo della prestazione del fondo pensione hai la possibilità di di vedere applicata una tassazione al tuo tfr che è di gran lunga più bassa rispetto alla tassazione separata che normalmente viene applicata al tfr nel momento in cui lascia un'azienda e questo ti viene erogato quindi normalmente la tassazione minima del tfr è il 23 per cento nel caso di un fondo pensione la tassazione invece in quel caso quindi nel caso del tfr versato in un fondo pensione la tassazione massima è al 15 per cento e in funzione della durata di adesione al tf al fondo pensione questa può si riduce nel tempo e può arrivare ad un minimo del 9 per cento quindi il tfr nel fondo pensione è molto interessante perché naturalmente si rivaluta potenzialmente di più rispetto alla rivalutazione del tfr in azienda in più c'è un vantaggio fiscale in più naturalmente come tu dall'inizio dici c'è una separatezza no quindi il tuo tfr confluisce in qualcosa che risulta separato dall'azienda e di conseguenza sicuro in qualsiasi caso l'altra domanda è dove lo mettiamo nel bilanciato va bene per una persona di 42 anni o ci sono diciamo altri profili mi verrebbe da dire di fondi pensione che sarebbero più convenienti per una persona di 42 anni allora nei fondi pensione le linee diciamo si raggruppano si sintetizzano in quattro c'è la linea garantita la linea obbligazionaria quella bilanciata e quella azionaria poi ci possono essere diverse sfaccettature ciascun fondo pensione avrà una declinazione anche maggiore di linee che però rientrano in queste quattro macro categorie allora 42 anni sicuramente è giovane la sorella di claudio per cui il percorso verso la pensione è ancora lungo parliamo almeno di altri 20 anni se tutto va bene probabilmente di più se penso a me la mia età pensionabile di 67 anni per cui insomma ha oltre 20 anni davanti a sé la sorella di claudio quindi una linea bilanciata è una linea che probabilmente con un orizzonte temporale così lungo è una linea che tutela anche troppo e quindi riduce il potenziale di rivalutazione e di crescita del capitale investito quindi probabilmente in questo momento verrebbe la pena di avviare una linea che sia anche completamente azionaria e poi ricordarsi nel corso del tempo di man mano che ci si avvicina al momento dell'età pensionabile quindi all'erogazione della prestazione da parte del fondo pensione di portare in cascina se vogliamo i risultati no guadagnati nel corso del tempo quindi di ridurre il livello di rischio fatto e di spostarsi verso linee bilanciate e anche obbligazionarie la linea garantita è una linea che non dobbiamo considerare sicuramente 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 non oggi quindi in questo momento la scelta potrebbe essere completamente azionaria io io direi che se claudio vuoi fare un buon regalo a tua sorella però marco noi suggeriamo anche una cosa di di seguire magari il nostro corso esiste un corso che abbiamo messo a punto in mass for che si chiama mass for retirement quindi parla esattamente di questo quindi della previdenza integrativa e dell'importanza di di crearsi una pensione ulteriore rispetto a quella che ci viene garantita dall'inps o comunque a quella pubblica e questo corso probabilmente chiarirebbe molte cose alla sorella di claudio quindi se vuoi farle un regalo in più oltre a riportarle questo consiglio secondo me potresti proprio regalarle mass for retirement allora claudio è semplicissimo digiti www.mass4.it vai nella sezione corsi tra l'altro il retirement è dato in regalo in offerta con un altro corso molto importante che si chiama beginner che ti dà le basi dell'investimento perché fondo pensione importantissimo ma è una parte del puzzle e quindi in quel modo si hanno tutto il puzzle e si ha anche la possibilità di investire in maniera corretta per il futuro e basta appunto andare www.mass4.it paola io ti ringrazio però per essere completi sulla domanda di di paolo mancava avete un fondo pensione in particolare che consigliate ecco dimenticavo questo particolare nel senso che comunque è una non risposta grazie marco no non abbiamo nessun fondo pensione da da suggerirti in particolare nessun fondo pensione aperto però ti consigliamo di fare un'indagine diciamo di mercato c'è un sito pubblico che è il sito dell'organismo di vigilanza dei fondi pensione che si chiama covip per cui www.covip.it che è un sito fatto molto bene all'interno del quale ci sono tutti sono indicati tutti i fondi pensione esistenti in Italia un fondo pensione aperto questo sì è quello che ti suggeriamo perché diciamo che le tipologie sono tre ci sono i fondi pensione negoziali ai quali in realtà non puoi accedere nella misura in cui ci avresti già sottoscrittrice insomma sorella di Claudio se se tu fossi appunto una categoria che ne ha diritto perché in automatico ti saresti trovata ad effettuare già la scelta per cui i negoziali sono legati a specifici contratti collettivi e sono dei fondi pensione chiusi i fondi pensione aperti sono invece appunto liberi diciamo che è possibile per chiunque sottoscrivere un fondo pensione aperto oltre a questo esistono i piani individuali pensionistici che sono delle forme di assicurazione con una struttura identica molto simile a quella dei fondi pensione da un punto di vista di funzionamento tuttavia hanno una grande differenza rispetto ai fondi pensione aperti perché sono particolarmente onerosi per cui attenzione ai piani individuali pensionistici perché hanno un prezzo normalmente molto più alto rispetto ai fondi pensione aperti però il sito della Covip è davvero il posto migliore all'interno del quale trovare tutte queste informazioni e poter eventualmente scegliere un fondo pensione io parliamo dei costi in particolare sui fondi pensione perché per un investimento che dura decenni come il fondo pensione che ci accompagna durante tutta la nostra vita lavorativa chiaramente un costo più basso fa tanta differenza nel cumulo complessivo alla fine del periodo quindi fate attenzione cercate di trovare un buon rapporto qualità prezzo benissimo Paola io ti ringrazio tantissimo credo Claudio che hai avuto tantissime ottime informazioni per tua sorella se qualcosa non è ancora chiaro riscriveci ma soprattutto vorrei invitare tutti quelli che stanno guardando questo video magari hanno curiosità dubbi su come investire i propri soldi o non capiscono qualcosa del mondo dell'economia beh scriveteci info chiocciolamascotro.it noi tutte le mattine siamo qui con la nostra pillolina per cercare di darvi una mano a capire meglio il mondo dell'economia e della finanza che non è così cattivo come lo vogliono dipendere ma anzi se sfruttato bene ci può dare una grossa mano per il futuro Paola io ti ringrazio tantissimo con te ci ritroviamo il prossimo lunedì e buona settimana soprattutto buona giornata a tutti con gli amici di Mascotri invece ci vediamo domani 8.30 ci sarà Gerardo Murano con l'angolo del trader ciao Paola alla prossima grazie buona settimana a tutti grazie Marco ciao e allora per chiudere come sempre mettiamo la sigla